C'è da dire che il Napoli era largamente rimaneggiato perché non c'era Gimè, non c'era Politano, non c'era Nathan, è vero, ma questo è un alibi che non serve a giustificare, secondo me, un Napoli veramente riconoscibile rispetto a quello dell'anno scorso. È un Napoli che obiettivamente Mazzarri non sembra riuscire ad aggiustare, a rimediare, a fare tornare quel Napoli dell'anno scorso, non dico uguale perché penso sia impossibile, nonostante gli interpreti sono praticamente gli stessi, però ragazzi, io era un po' che non guardavo e non portavo una partita intera del Napoli sul canale, un po' spartita volevo dire, scusate, sono rimasto male, obiettivamente io sempre sono uno di quelli che difendeva García, ma non è che difendevo, dicevo la colpa non è di García e basta. E Mazzarri non risolverà molto la situazione rispetto a García. Ecco, questo io l'ho sempre detto e continuo a pensarlo, dopo oggi ancora di più, il povero Kvara si danno l'anima a 90 minuti, fa tutto lui praticamente, lui e anche Mario Rui a me non mi è dispiaciuto, ma a parte loro due ragazzi, nulla cosmico. Sì, è vero, senza Rosimene il Napoli perde davvero tanto, però il problema è che adesso se Rosimene va in Coppa d'Africa bisogna che un attimo capiscano cosa c'è da fare. È un Napoli che tra l'altro per la prima volta in questa stagione va con la difesa 3, inizia con la difesa 3, in Monza ci sono dei momenti che anche nel primo tempo per diversi minuti che fa girare la palla col possesso suo e il Napoli che non riesce a rubargli la palla. L'anno scorso sarebbe impensabile pensare a un Napoli che in casa subisce un possesso palla, un giro palla del Monza per 3-4 minuti come è successo anche nel primo tempo, con conseguenti fischi del Maradona che poi arriveranno anche alla fine della partita. È un Monza che fa la sua partita perché comunque sia cosa deve fare Monza, si difende anche diverse occasioni, dopo andremo anche su quella più netta, però è un Monza che non sfrutta le occasioni che ha e le spreca anche malamente. Però c'è da dire che appunto è un Monza che non ruba niente, tra l'altro di Petro, Napoli che davvero mi sembra un'altra squadra rispetto all'anno scorso, eppure i giocatori sono praticamente gli stessi come dicevo prima. Al trentottesimo del primo tempo c'è la prima vera occasione per ripartare il Napoli con Anguissa che di testa impegna severamente di Gregorio, che risponde alla grande. Una delle tante risposte da grande portiere, quale per me diventerà di Gregorio per una big a breve termine durante tutta la partita. Tra l'altro sulla ribattuta di Lorenzo non si riesce, non si fa trovare pronto, ecco quello poteva essere sicuramente il tap-in vincente che poteva svoltare un match che in realtà non si sbloccherà mai. In precedenza appunto è solo Kvara, migliore dei 22, anche a fine partita senza ombra di dubbio, a cercare spunti personali per i compagni, anche personali, però non riesce, l'ho già detto due volte lo so, ma sono ancora convalescente dall'influenza, appunto spunti personali per i compagni ma senza fortuna. Per il Monza è un buon primo tempo, riesce a gestire, ha un'occasione buona con Pedro Pereira, complice anche una deviazione di Ramani che fa uscire la palla di poco lato. Ecco sì, ripeto, il Monza non è che ha tutte queste occasioni, soprattutto nel primo tempo, però non è che anche il Napoli fa nulla di che, quindi finisce così un primo tempo con poche emozioni, con un Napoli che sembra soprattutto psicologicamente bloccato, perché ripeto, un po' ci prova a sbloccarlo. Andiamo a parlare del secondo tempo, non prima l'avevi invitato a iscrivervi al canale, ti va a campione, mi piace, quindi commentare, guardate un po', stavolta lo dico a 4 minuti e 25, un saluto a tutti i tifosi di calcio, seguitemi, mi raccomando, buone feste a tutti e andiamo col secondo tempo. Occasione del Napoli con l'aspadori che finisce fuori, ancora Quara che davvero si danno all'anima per i suoi, ma senza fortuna, Carboni per il Monza, tiro debole, facile presa di Gregorio, ecco quella era una buona occasione, ma Carboni tira veramente una ciabattata, ma arriverà poi la ciabatta più grossa di tutte dopo. Di Gregorio, bravo su una conclusione velenosa di Quara, ecco questo forse è il pericolo più grande nel secondo tempo corso dal Monza, è l'occasione più grossa insieme a quella di Gaetano che vi racconterò dopo per il Napoli. Napoli spinge, Monza si difende, non capisco perché Mazzarri tardi tanto a far entrare Lindstrom e altri cambi in generale, appunto al 64esimo ancora nulla e arriva il rigore, arriva il rigore per il Monza. Compessina che lo spreca davvero male, tira una pera cotta, ho scritto io nei miei punti, facile preda di Meret, appunto un rigore tirato veramente, veramente, veramente male, rigore che secondo me ci poteva anche stare. Nonostante nel computo dei 90 minuti l'arbitro abbia sicuramente fischiato poco a favore del Napoli, ecco c'erano molte decisioni secondo me molto più a favore del Napoli che non sono state date, questo mi sento di dirlo senza se e senza ma. Sapete che io cerco sempre di non parlare degli arbitri. Tra l'altro al settantesimo entrano finalmente Gaetano e Lindstrom per Zielinski e Zerbine, ecco su Lindstrom sono d'accordo, su Gaetano un po' meno e dopo capirete il perché. Che è scemeretta, ciaccato, scintille tra Gondo e Quara, con Gondo che gli ride anche in faccia io avrei evitato e conseguente espulsione di Mazzarri che in realtà lui dice che era andato per calmare gli animi, però era più di una volta che usciva dall'area tecnica e quindi viene cacciato fuori. Alla buon'ora, all'ottantaquattresimo, entra anche Simeone ma ormai è troppo tardi per questo Napoli, con un Napoli che prova a spingere con un 4-2-3-1 e lascia spazio anche alle ripartenze del Monza pericolose, il Monza che ha questo paio di occasioni che spreca veramente malamente, anche il Monza ci abatta, tira fuori. Da tifoso esterno, ripeto, ho visto un arbitraggio un po' penalizzante verso il Napoli, però questa non deve essere un alibi, è una scusa per una squadra che l'anno scorso ha vinto il campionato, ragazzi, cioè sono i campioni d'Italia in carica e sono irriconoscibili. Gaetano al 91esimo spreca un match point assurdo davvero, bravo di Gregorio, per carità bravissimo sul tiro, ma sicuramente doveva fare di più Gaetano, sicuramente. Viene espulso anche Palladino, pure il Monza appunto spreca un'occasionissima alla fine che era lanciato, ma poi ci incischiano e alla fine va a Ramengo, come si dice in Romagna, anche a quell'occasione lì. E qui Napoli finisce 0-0, un match che obiettivamente il solo Kvara prova in tutti i modi a sbloccare, Napoli molto confuso, Napoli molto senza anima, come ho detto nel titolo, un po' vuoto, un po' scarico, psicologicamente bloccato. Sì, ripeto, sicuramente ti mancano Osimen e Politano che non sono due così facilmente sostituibili, però non può essere un alibi in casa col Monza, questa squadra qui doveva assolutamente vincere. E io ripeto, sbagliare con Garcia è stato un errore sicuramente. Chiamare Mazzarri ho paura che sia un accanimento terapeutico, io mi sento di dire così. Nel senso che insistere sugli errori con altri errori poi è vero, in questa stagione qui lui magari aveva provato a chiamare anche qualcuno di più valido, però ecco, in corso di stagione volevo dire difficilmente qualcuno come Conte arriva. Ecco, è sicuramente il Napoli che sta distruggendo piano piano un gioiellino e in classifica il Napoli adesso è messo male. Dipende anche cosa farà la mia idea domani, se vince lo supera, ma insomma è un Napoli irriconoscibile. Invece un buon Monza con un Palladino che ragazzi, sapete, io essere suo estimatore qualora dovesse andare via Gasperini, sapete che caldeggio pienamente Palladino, è un Monza che comunque è ancora lì, nonostante per molti era passibile di probabile retrocessione. Invece è lì, è ancora lì e dice ancora la sua, nonostante la dipartita del suo presidente. Mi raccomando ragazzi, fatemi sapere la vostra nei commenti, iscrivetevi al canale, attivatevi al campionino, mettetevi piace, commentate, vi invito ad andare a vedere anche il video pre-partita di Lecce-Atalanta che ho girato con Alex, è carino. Se vi va di andarlo a vedere, io non ero in formissima, oggi sto un pelino meglio, un pelino meglio ed eccomi qua apposta per voi. Ci vediamo presto, il vostro Monza, buona serata e comunque abbiamo modo di rivederci, ma qualora non vedeste altri miei video, buon fine anno e buon inizio d'anno. Alla prossima, ciao! Ciao!